Salve a tutti, oggi io sono Fico e vi presenterò questo mezzo particolare. Ha un cestone davanti, due ruote davanti, un freno al disco che funziona molto bene, un cestone dietro e una ruota dietro. E adesso ve lo farò vedere in movimento. Come vi ho detto, frena molto bene. E ora, che fai le penate? Andiamo? Sì, andiamo. Sì, anche il tempo. 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 Sì, anche il tempo.